Allora ragazzi oggi vi faremo vedere Come più o meno Cercare di arrivare nel top 10 A coppia, almeno ci troveremo Io non ci arrivo quindi vado al ponte Ok Meglio Vai vai Ho visto un bel Fucile Da caccia Eccolo qua Quindi direi che Possiamo anche provare Ah vai vai che kill Come quella che vi ho caricato ieri Un altro fucile da caccia Bene ce l'ho anche per te Tu magari ti travi un cecchino Boh no Vabbè guardate che cosa fare Qualcosa c'è nel revolver La prendo per sicurezza perché non si sa mai Intanto mi invitano alle parti Ok Allora tesseri io vado proprio in città piena Hai visto qualcuno per casa? Ok 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 Prendiamoci sto pieno Io non sento nessuno E questo un po' mi gradi Ecco Allora un pompa Un pompa Buona buona pompa Però pompa non della nonna Per casa Cassettina Cassettina Aspettate un secondo Si tolto sempre così Bene anche il pompa della nonna Io butto anche qualche granata Spero vivamente di non rompere qualche cesto Con le mie granate Eh però porca croia Eh 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 L'uscita d'assalto Ora Eh trovate venite da me perché c'è Il coso Fugile a caccia Se lo vuoi eh Se no no O lascio il pompa Sì sì Boh se non posso fare io doppio cosa Doppio Eh? Intanto mi arrivano messaggi da gruppi Scar 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 Garbo All'ultimo Sottosto Scar 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 Più Pompare Nonno Cosa vuole Di più Ss Non creo Bessoltanto Ah qua ci sono gli scolini Ah c'è anche un'을go Pompare Anno Perché C'è un poco per te cecchino detto bianco ce l'ha giallo scambiola per te lo prendo per te vai però andiamo 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 prendimi un pompa prendimi un pompa della nonna se lo trovi veni da me veni da me veni da me te l'ho messo qua vieni qua va no ma non importa è lì dentro ma un po' fucile più ma andiamo te garbano lo scar io ho anche due medici l'unica cosa che ci manca sono le bende vabbè allora a posto qua l'ho costruito mi sa che sei stato io ho anche il pompa fucile blu che non è male ma per nulla serio no mi sa anche a me sicuro sì qualcuno ci sta però io vedo ancora qua c'è la miniera se ti vabbiani si vende un po' di pietra qua non c'è nessuno qua non c'è nessuno e c'è un pompa pesante io ho 45 colpi più in pompa vabbè allora a posto tanto ormai è sempre così c'è uno va là ad uprodo o all'hand e la safe te la mette sempre nel stesso punto boia tra un minutino adesso non c'ho né legno né nulla di cosa bello di pietra c'è no 200 però è lei più che altro mi serve aspetta siamo insieme 24 sono rimasti in 24 ma quale sarebbe giù vieni vieni Certo Te quindi ce l'hai i fucile da caccia o no? Vabbè Alla fine non te l'ho portata Però forse è meglio il fucile da caccia So la stessa cosa Solo che uno è una pistola e l'altro è un fucile La logica è questa Sì sì Abbiamo scansato anche Borgobislacco Anche se è un nome di merda però vabbè Salti Springs Beh avrebbe saltato male Lì c'è qualcosa d'ora Penso sia un cespuglio Eh boh non lo so è qua lontano Si c'è è una cosa aperta Non c'è spuglio Non c'è spuglio Seguimi Non passare da dentro Non c'è spuglio Non c'è spuglio Non c'è spuglio Non c'è spuglio ecco infatti seguimi 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 scansiamo tutto qual'è cos'è qua ci sono stati a quelle casettine schifose tranne che ad affrodo allora 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 14 persone rimanenti quindi 7 team ci si prova solo che se dalla 6 ma vabbè tanto adatto mito per forza però se la doveva dare a bosco similante c'è due falle ho capito da dove spadiamolo facciamo uscire ci push seguimi 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 scendere da fortino senza farti vedere e fare una scalata dietro vai 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 scendi senza farti vedere solo che così ci becchiamo la save anche se questa dovrebbe essere lenta siamo rimasti in giaccia io soltanto ti faccio una cassa la prendo io a te te pensa e perchè non si sa mai no 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 vabbè ma vabbè ma do del legno che 30 in più non fa male io tenterei di andare su questa montagna e se probabilmente ci sarà già qualcuno aspetto